Ciao ragazzi, benvenuti su GTA! Oggi siamo qui nella nostra bella macchinina e dobbiamo chiamare Hesingar perché vogliamo che venga con noi a comprare di nuovi oggettini o nuove cose, quindi adesso lo chiamiamo sempre, oddio, costa un fottio chiamare una persona 10 dollari, what the fuck chiamiamolo, vediamo un po' se ci risponde, oh Hesingar ciao! Oh, Zulisse, che si dice? Hesi, ma non è che vieni con me a comprare qualcosa, tipo, cosa di bello ti vengo a prendere io, tranquillo nessun problema, tipo, c'è la bella macchina guarda, se droga ce sto, dai ce sto apposta, andiamo, ti vengo a prendere io tu, solita, solito posto? tutta roba? ok, solito posto andiamo dello spagiatore di fiducia, allora dai andiamo, andiamo a prendere io ok, bella vabbè, ragazzi, andiamo a prendere Esiga che dovrebbe essere un po' più avanti ammazza quanto ci hai messo oh, oddio, che diamine vigili andiamo, andiamo è un trocatello, il mio like perfetto, allora, visto che andiamo a fare i drogatelli andiamo a comprarci un po' di armi da munition aspetta, aspetta, parcheggio parcheggio bene aspetta, aspetta, aspetta ok a posto si, andiamo, andiamo a munition andiamo a prendere un po' di armi un problema, no? in realtà un bel problema sai cos'è? che tipo aspetta, aspetta, dove vai? vieni qua, vieni qua vieni qua vieni qua vieni qua che cosa vai? che cosa fai? aspetta, qual'è la macchina tua? azulisse, aspetta no, la mia macchina lascia la mia macchina ti pesto no, dai sto arrivando lascia la mia macchina perché già esingar l'ho distrutto ma sei impazzente no la polizia la polizia a quanto godo spero muo che stai a fa? ok oddio, oddio esing, esing la strada aspetta aspetta vai nel buco vai nel buco vai nel buco ho capito vai nel buco esingar ma l'hai beccato quello esingar vai nel buco gira a destra gira a destra gira a destra mettiti nell'angolo ok esingar ci hanno visto esingar qua 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 fermo 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 perfetto vai esingar si sparano da l'elicottero mi fai guidare a me girati levati guido io guido io ma che cosa vuoi? possiamo a piedi mamma sto registrato vai per favore trozzi non ci avete mai non ci avrete andiamo esingar scappiamo esingar riesce a guidare esingar non credo mai aspetta guarda che c'ho che cazzo lanciato dici che ci vedo mi sono lanciarazzi abbiata nella vita un'esercizio bisogna andare sempre dritti eh sempre dritti esingar però no quando c'è una cosa si sai sull'acquillir perfetto esingar 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 no così tanto dritti esingar per me esplodiamo no esingar 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 con una mastaglia non ci facciamo salire in montagna no i salini no i salini no aspetta no non c'è 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 l'elicottero accosta 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 qua sulla destra sulla destra fermati 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 wow bello entra entra amico questa è una rapina questa è una rapina dammi tutto ciò che vuoi dammi tutto dammi dai dai stronzo dai dai dacci soldi abbiamo usato un elicottero dietro aumento di grado delinquente andiamo eh si non ci sparano preoccupati non ti faccio nulla dove sei in mezzo alle fratte salve 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 ho un problema eh salve eh sto fumando con degli amici non rompere e qua e qua vieni peggio dei fucidi vai 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 macchina versus man oh cristo no esigar che cristo fai esigar porca esigar esigar statti là esigar dai è bello ti lasci a terra oh che cristo ti ho dato ti ho dato è morto è morto di brutto sono morto ti sparo con la la pistola oh guarda che è un fuoco sei bruciato vivo sei stato bruciato vivo grazie dei soldi è sigar si scoppia ehi amico le dispiace se salgo sul bus me lo prendo grazie ehi amico ehi amico ehi amico andiamo andiamo esigar da posto cori 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 cosa ha fatto che verso il palino bianco picca sotto il tizio picca sotto il tizio aspetta 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 che sta fermo aspetta che sta fermo brum 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 ci ha distrutto ci ha visto e ci ha buttato un contro una cosa gigante che è l'ingara l'ambiente uccidio stronzo uccidio stronzo no ma ammazzato l'ho preso sotto vi è qua vai vai ti è piaciuto questa è la vera forza di un pullman boom 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 aspetta esigami qua esigami qua che pezzo di strancio che sopra pensi davvero che io non posso passare in quel posto esigar un quale coraggio esigar pure nei piccoli piccoli il sio lì se può passarci tranquillamente brum brum ciao esigar oh au au che sei a fa aspetta te ne ho fai esigar 2 dollari per acqua cola ma sei un ladro come si mangia stasera sei un ladro sei un ladro dai aspetta dammi no esigarosa perchè rosa mico muoviti muoviti vai c'è l'otto esigar 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 venici un po grazie grazie ok si si no no non mi ha dato i soldi tutto questo per comprarci dalla roba non voglio di niente ma vuoi rispondere alla vetrina o no scusami esigar leva la pistola che non si entra nel negozio con la pistola toglila ok guardate signor esigar che si sta scendendo esigar guarda dietro buongiorno ciao ora c'è stato da questo 50.000 costa esigar me l'hanno portato esigar esigar andiamo andiamo a preparare la droga nel nostro octopus ma che cazzo è quel coso andiamo esigar ragazzi dai due hippie dai due tizi che proveranno a fare la droga è tutto noi ci vediamo nel prossimo episodio di gta dove andremo a fare cose esigar dove vai no esigar non mi distrugge non mi distrugge la macchina che l'ho pagata tantissimo